Qualità, quantità, velocità. In una parola sola, Oristanio, che conferma le sue qualità, c'è anche il merito specifico che fa piacere ovviamente ai fanta allenatori dell'assist, quindi del bonus, e c'è una prestazione ancora una volta importante. È un giocatore capace di accendere il Cagliari, capace di tirar fuori il meglio dal punto di vista della velocità di esecuzione e della rapidità di movimento. Diventa una soluzione che soprattutto poi con l'evolversi della partita a gara in corso può diventare decisiva, lo è stato ancora una volta.